Due differenti proteste hanno animato il Consiglio Comunale di questa mattina, parti diverse di città che si sono incontrate nell'assise civica per difendere il proprio territorio. Da un lato i residenti di Pagliare e di Sassa che chiedono la rimozione dell'antenna di telefonia mobile posizionata a pochi metri dall'antica chiesa di San Pietro Apostolo e a ridosso del centro abitato di Pagliare, pronti persino a incatenarsi se il comune non tornerà sui suoi passi. C'è preoccupazione sulle conseguenze che l'antenna, che dovrà essere utilizzata anche per la sperimentazione del 5G, potrebbe avere sulla salute. Un'antenna ritenuta abusiva. All'inizio dell'anno i residenti hanno avviato una petizione popolare per sollecitare il Consiglio Comunale ad adottare la decisione di rimuovere tutte le stazioni radio. È l'80% della votazione attiva, cioè dei 2.400 abitanti. Di fronte a una chiesa non può esserci questa antenna, soprattutto perché c'è un vincolo paesaggistico e soprattutto anche per la salute dove sono gli abitanti. Io porto le catene con me, ringrazio tutti i consiglieri che stanno votando e votano questa delibera ad unanimità e poi dare il primo tassello per risolvere il problema. Ma io non esco oggi da questa sala se non ho il risultato positivo per i miei compaesani. Decisi a tutto pur di difendere la scuola dell'infanzia di Bagno, i cittadini della piccola frazione che hanno raccolto 400 firme per scongiurare il trasferimento della scuola e dei suoi 28 bambini nella struttura scolastica di Pianola, decisione che il comune ha preso con una delibera del 29 novembre scorso. Una scuola per noi importante che è l'ultimo presidio pubblico che c'è in un territorio di 3.500 abitanti. La scuola dell'infanzia ha 28 bambini, c'era un progetto finanziato per un milione e mezzo, c'è un progetto in corso di definizione già nel 2015. Stavamo aspettando che diventasse esecutivo. Poi a novembre del 2018, il 29 novembre, la delibera di giunta ha deciso di chiudere la scuola dell'infanzia e di accoparla a Pianola. Quindi questa cosa noi obiettivamente siamo trebillmente conto e faremo di tutto per evitare questa cosa.